Buongiorno, benvenuti in Camera di Commercio. Io sono Cesare Peruzzi, responsabile comunicazione della Camera. Vi ringrazio per aver accettato questo invito. Oggi è il primo degli incontri che la Camera dedica all'economia e ai temi cari alle imprese che abbiamo battezzato colloqui dell'economia. Avremo ogni volta un ospite di livello nazionale e questa volta abbiamo l'onore di ospitare il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli, che ringrazio, che saluto. Diciamo che è l'occasione per parlare in questo caso di credito e di finanza, di accesso al credito per le imprese, quindi un momento anche particolare e insieme ai nostri ospiti, perché non avremo solo il Presidente dell'ABI, questi incontri che il Sole organizza insieme al Sole 24 Ore Radio, e in questo caso anche in collaborazione con l'Ordine dei Dottori commercialisti di Firenze, che ringrazio e che saluto il Presidente Terzani, sono appunto dedicati in questo caso al credito. Io do la parola per il saluto iniziale al Presidente della Camera di Commercio Leonardo Basilichi e poi avrò il compito semplicemente di guidare un po' i diversi interventi nella mattinata. Prego Presidente. Grazie Cesare, grazie a tutti, buongiorno, benvenuti. Come diceva Cesare, questo è l'inizio di un percorso che noi vogliamo, diciamo, dar vita nel prossimo periodo, con la collaborazione con il Sole 24 Ore, quindi ringrazio anche il Sole 24 Ore, Sara è qui con noi e poi conosceremo e credo che faremo tre o quattro appuntamenti l'anno, vogliamo fare qualcosa che possa avere un senso per tutti, possibilmente, quindi un confronto aperto. Speriamo di stare sempre a livello alto come la città merita, questo non è Firenze ma vogliamo essere parte dell'Italia per cui noi siamo sempre per l'Italia, non vediamo una distinzione inferiore alla dimensione della nostra Italia e quindi ci sembra giusto avere i rappresentanti dell'Italia, quella che reputiamo essere quella che fa la differenza. Oggi abbiamo scelto come primo argomento legato all'economia di parlare di banche perché crediamo essere il rapporto banca-impresa uno dei punti più sensibili della nostra economia e quindi a livello prioritario quale non trattare questo argomento e chi non meglio del Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, poteva rappresentare simbolicamente il livello alto che questa Camera vuole tenere con questi eventi e potesse anche rappresentare il merito per cui oggi stiamo a parlare tra banca e impresa. Io ringrazio Antonio Patuelli, Presidente, devo confessarvi che con Antonio siamo anche amici perché abbiamo anche delle iniziative in comune che devo dire qui a tutti trasparentemente so essere Nexi che ci ha visto lavorare anche insieme in alcune attività, ma qua stiamo a parlare appunto come Presidente dell'ABI. Grazie Antonio. Io solitamente qua saluto tutti con benvenuti nella Casa delle Imprese, che è un dato di fatto, le Camere di Commercio da quando sono riformate vogliono marcare il senso di essere il punto di sintesi delle imprese. Oggi definirei la piazza dell'economia e quindi oggi è una piazza dell'economia anche perché purtroppo pochi sanno, pochi ricordano che le Camere di Commercio hanno nella sua governance e nella loro governance anche le banche e quindi poche volte vengono utilizzati come strumenti di condivisione di alcuni argomenti. Hanno tra l'altro anche le forze sociali, i sindacati, hanno i consumatori, no? Nella governance delle Camere di Commercio è uno strumento particolarmente utile se viene utilizzato per dirci le cose che ci dovremmo dire quando siamo chiusi in un Consiglio di amministrazione, in una stanza o tra soci. Ecco, queste sono le cose che io credo. Oggi, ora non voglio farvi perdere tempo, la giornata, quest'oretta e mezzo che ci lega, insomma, sarà a dense di altre cose e poi ne parleremo con il Presidente. Oggi concludo dicendo che la giornata sarà poi completata oltre a questo confronto, questo colloquio con il Presidente Patuelli, anche con l'Ordine dei Commercialisti, ringrazio il Presidente, perché noi crediamo che quando parliamo di banca impresa, quando parliamo di banca impresa, andremo a definire anche uno dei limiti che questo Paese, o comunque forse anche altri Paesi, Antonio, è la cultura finanziaria che manca. Noi abbiamo molte volte fatichiamo a trasferire ai nostri imprenditori quello che è il linguaggio giusto che devono avere per poter parlare con la banca. Vorrei che anche la banca cercasse di avvicinarsi al linguaggio dell'imprenditore, ma oggi io per essere costruttivo voglio avvicinare l'impresa verso la banca e da tempo noi facciamo iniziative di seminari culturali per formare i nostri imprese e i nostri imprenditori. Però è anche vero che, dobbiamo dire, le imprese hanno dimensioni diverse e hanno strutture diverse. Le grandi imprese hanno la cultura, tendenzialmente rappresentata da manager o da professionisti che sono dentro l'impresa e quindi il tema finanziario è embedded, come direbbero gli inglesi. Ma sappiamo che la nostra morfologia di impresa è fatta di PMI. E cosa succede da un certo livello in poi nelle imprese quando parli di argomenti che non sono tipici dell'imprenditore che è il prodotto o che è la sua storia o la generazione, la sua genesi? Succede che nessuno conosce gli argomenti che dovrebbe trattare e quindi c'è il mitico commercialista che molte volte gli viene delegato anche l'essere imprenditore. E quindi per me è fondamentale il commercialista. Ho sempre sostenuto che per me la forza del commercialista nella morfologia italiana fosse caratteristica del DNA dell'impresa, tant'è vero che nella Presidente Giunta avevo chiesto apposta di avere i commercialisti che rappresentavano la governance. Perché? Perché era il miglior tratto di unione tra le scelte dell'imprenditore e delle posizioni e l'impresa stessa. Perché oggi? Perché ho chiesto ai nostri amici commercialisti di essere qua? Perché tradurranno loro questi messaggi che oggi noi cercheremo di dare e che comunque daremo sempre e costantemente verso quelle imprese che non hanno la competenza della finanza. E quindi toccherà loro, ahimè, aiutare le proprie imprese a capire come poter andare nella direzione di avere fonti di finanziamento giuste se l'impresa lo merita. E per questo, chiudo, abbiamo chiesto alla nostra società di sistema camerale in Nexa, di presentare come si può avere un rating di impresa gratuito che le camere di commercio mettano a disposizione per tutti, perché così potremo avere contemporaneamente un po' di cultura finanziaria didattica, perché io devo mettere i dati della mia impresa e i commercialisti aiuteranno gli imprenditori a compilare questi strumenti online che noi abbiamo mettiamo a disposizione del 12 dicembre, ora li vediamo, e dall'altra parte avremo comunque un rating che servirà a capire, non voglio dire con grandissima precisione, ma comunque largo circa, qual è lo stato di saluto dell'impresa. Quindi oggi è, questa vuole essere, diciamo, il senso della nostra mattinata. Io lascio, penso, se posso sostituire il moderatore, mi fa piacere presentarlo a me, il segretario generale, che verrà con pochissime slide, servono sempre un po' di slide, a rappresentare lo stato dell'economia del territorio e dell'area metropolitana, perché questa è la nostra circoscrizione. Grazie Giuseppe, buon lavoro, ci vediamo dopo. Grazie Presidente. Segretario generale della Camera di Commercio, Giuseppe Salvini. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in Camera di Commercio, la casa delle imprese. Io sarò rapidissimo. Vi presento con alcune slide il posizionamento e la direzione di marcia del nostro sistema economico locale. Lo facciamo grazie alle elaborazioni del nostro ufficio studi. Noi sapete, siamo ufficio periferico dell'Istat. In questa veste, come ufficio studi, elaboriamo ogni anno 40 report sull'andamento dell'economia. Noi centimetriamo l'andamento dell'economia per tutti i settori economici con degli studi che puntualmente pubblichiamo sul sito. I nostri dati cosa ci dicono, signori? Ci dicono che in un contesto ancora governato da grandissima incertezza, il sistema economico fiorentino e toscano ha dimostrato una resilienza, una tenacia, una capacità di reazione straordinaria. Nonostante una serie di shock consecutivi e ripetuti dalla pandemia alla crisi russo-ucraina, lo shock energetico, il sistema economico è ripartito sempre brillantemente. Io vi ricordo che nel 2020 il PIL ha perso in area metropolitana fiorentina l'8,9% di punti, è rimbalzato nel 2021 al 5,9%, è rimbalzato ancora nel 2022 del 4%, ancora quest'anno sarà in progressione, secondo le nostre stime, dello 0,9%. Su questo 0,9%, che è un risultato in decelerazione, perché poi il filo conduttore del nostro rapporto sarà questa decelerazione, una ripartenza che sta perdendo tono, moderazione, con degli indicatori che saranno in deciso rallentamento, soprattutto verso la fine dell'anno. 0,9% è il rimbalzo ancora nel 2023, devo dirvi che le nostre stime erano ad una intonazione molto peggiore, quindi la performance reale è stata superiore rispetto alle aspettative. La demografia delle imprese, e andiamo all'altra slide, conferma questa reattività del sistema perché ancora nel 2023, questo è anno su anno, la demografia delle imprese, le imprese iscritte alla casa delle imprese, 116.887 sono in crescita dello 0,7%, quindi una anche qui stabilità, una sostanziale stabilità, ma direi anche rispetto all'andamento negativo del 2020, un irrobustimento. Due focus che vorrei evidenziarvi, che danno un po' il senso anche del mutamento del sistema economico è l'aumento delle società di capitale. Sono tre anni che le società di capitale aumentano, sono arrivate ad essere 41.400 dopo tre anni di aumento consecutivo, questo significa che l'imprenditore cerca in un contesto incerto, in un contesto complesso, forme giuridiche più strutturate, più adeguate ad una competizione internazionale. Diminuiscono le ditte individuali, che sono sempre 52.000 in area metropolitana corentina. Un altro accendo che vorrei farvi velocissimo perché ho 7 minuti 7 per darvi questa panoramica veloce, le imprese straniere, il vero motore, il vero motore del registro delle imprese, dove le imprese si iscrivono e che tiene la Camera di commercio, sono le imprese straniere. Noi notiamo che anno dopo anno vi è una progressione importante delle imprese straniere, hanno superato quota 17.000 prima i cinesi, secondi gli imprenditori di nazionalità albanese, terzi i romeni. Quindi un sistema imprenditoriale che è anche integrazione, che vede una presenza importante di aziende straniere. L'ultima notazione che si collega un po' anche al credito sono le imprese giovanili. Le imprese giovanili sono quelle che nel post pandemia in area metropolitana e Fiorentina sono quelle che hanno una erosione anno dopo anno. Sono circa 7.000 le imprese di giovani. Considerate che c'è il problema del 3 nelle imprese giovani. Il terzo anno è l'anno critico. Ne partono 100, al terzo anno ne arrivano in 60. Il 40% si perde nei primi tre anni. Quindi progetti di impresa più strutturati, problema di scarsa patrimonializzazione, problemi di accesso al credito. Sulle imprese giovanili, noi notiamo questa difficoltà di sopravvivenza. Vado molto velocemente ancora avanti. I due driver che ci confermano i nostri report, i nostri report puntuali, ci confermano che i due driver straordinari degli ultimi tre anni sono stati l'export da un lato, il turismo dall'altro, e guardo Alto Cursano, molto meno i consumi. Quindi molto meno i consumi, quindi anche la sofferenza del commercio in certe fasi negli ultimi tempi. L'export ha avuto una ripartenza bruciante, vi ricordo, più 27% nel 2021, più 15% ancora nel 2022, nei primi sei mesi del corrente anno, ancora più 6%, con valori assoluti che in provincia di Firenze nei primi sei mesi dell'anno superano i 10 miliardi. Ci incamminiamo per i 12 mesi a superare i 20 miliardi di export su circa 36 miliardi di valore aggiunto di PIL provinciale. Quindi una componente di export straordinariamente importante, ma che sta subendo anche qui un rallentamento. Lo vediamo soprattutto sulla moda. La moda nei primi sei mesi ha un andamento riflessivo, abbigliamento, pelletteria, calzature in riflessione perché rallentano evidentemente i grandi mercati di riferimento dagli Stati Uniti, grande mercato di riferimento alla Germania, alla Francia. Quindi quel rallentamento di cui poi continuerà a parlare il collega che mi segue brevissimamente, ecco, lo percepiamo già sull'aggregato della moda, per esempio. Vi ricordo anche che sulla moda l'area metropolitana fiorentina, la piana fiorentina, la toscana in generale esprime il 25% delle imprese italiane della moda. Qua sono localizzate 17 mila imprese della moda, 118 mila addetti, il 25% delle imprese della moda operanti in Italia, che stanno sentendo questo rallentamento. Molto velocemente siamo quasi alla fine. L'altro driver importante della ripartenza è stato il turismo. Qui a Firenze l'abbiamo ovviamente tutti i giorni sotto gli occhi. I dati ce lo confermano. 42 milioni le presenze nel 2022, 42 milioni quest'anno le superiamo abbondantemente, le stime sono di un 30%. I dati dei primi otto mesi sono posizionati a 32 milioni di presenze turistiche a Firenze, soprattutto sulla componente straniera. 32 milioni di presenze turistiche, scusatemi, in Toscana, soprattutto alla componente straniera. E anche qui si ritorna al discorso della moderazione dei consumi. Su Firenze parimenti andremo, secondo le nostre stime, a sfiorare i 15 milioni di presenze turistiche, più 32% rispetto al 2022, ma anche qui soprattutto con la componente straniera. La componente nazionale ha avuto un rallentamento. Siamo ancora lontani per la componente nazionale rispetto ai dati di riferimento del 2019, che su Firenze erano 16 milioni di presenze turistiche. Siamo lontani per il rallentamento dei consumi, dovuti all'incertezza complessiva dello scenario, all'esaurirsi dei risparmi che si erano accumulati nell'epoca, nel periodo buio del lockdown, si ha una compressione dei consumi per l'effetto anche della tensione inflattiva. Una tensione inflattiva che sul carrello della spesa è ancora quasi al 6%, al 5-8%. Questi dati sono confermati da uno strumento straordinario che abbiamo come Camera, questo monitor consumi, che ci consente con l'analisi delle strisciate su carte di credito di capire la propensione al consumo, quali esercizi, quali attività hanno maggior attenzione in termini di consumi, ci consente di capire anche le presenze turistiche, perché facciamo delle analisi sugli stranieri che spendono in territorio fiorentino. Quindi un turismo però importante, ripeto il dato, di quasi 15 milioni di presenze turistiche più 32 sul 2022 su Firenze. È un dato sicuramente positivo. Una situazione, e vado a concludere e passo la parola al collega che approfondisce un po' meglio il discorso più approfonditamente, l'aspetto del rallentamento, una situazione quindi di un sistema ancora forte, un sistema reattivo, un sistema che è però in una fase di rallentamento. Un rallentamento che è iniziato per la verità dall'ultimo trimestre del 2022, si sta avvertendo in tutti gli indicatori economici che noi, come Ufficio Studi, monitoriamo dagli indicatori della produzione, del fatturato, dell'export, ripeto ancora dei consumi, ma ecco anche una nota positiva. Non c'è solo il rallentamento, questo è un sistema che ha a nostro avviso di Ufficio Studi, di analisi economica delle potenzialità straordinarie, delle punti di forza che sono ascrivibili alla varietà di settori economici, una straordinaria varietà che va da un terziario forte a un artigianato di qualità, a un'industria che presidia un alto di gamma e questo è un grandissimo valore aggiunto. La grande attrattività turistica del territorio che è una garanzia, come si vedeva dai dati del turismo, per il prossimo futuro, ma anche, con questo concludo, dalla presenza sul territorio migliorabile, ma che comunque c'è, di centri formativi di eccellenza. Perché uno dei grandi problemi che ci restituisce la pausa del Covid è la difficoltà enorme di riperimento di figure professionali. Le nostre imprese hanno ormai stabilmente sopra il 50% di difficoltà di riperimento, cerco 100 figure, ne trovo solo 50, che raggiunge punti dell'80% sulle figure specialistiche. Avere centri formativi di eccellenza sul territorio aiuta ad affrontare questo grande problema che ci arriva nel riperimento delle figure professionali, specialistiche, ma anche più generiche. Il collega, prego Marco, continua con l'aspetto, velocissimamente, due slide del rallentamento che stiamo subendo. Marco Battazzi, Ufficio Studi, Camera di Commercio. Buongiorno a tutti. Allora io praticamente cerco di operativizzare un po' quello che avete visto fino ad ora, con pochi slide, ma guarderemo un po' la parte strutturale e poi altri due aspetti congiunturali, quindi la produzione manufatturiera e il mercato del lavoro, viene monitorato l'indagine del sistema camerale sulla domanda del lavoro in un comparto privato, l'indagine del Celsior. Qui chiaramente abbiamo sotto mano un po' quelli sogni di atto principali a livello di contabilità territoriale. Vedete che c'è stato questo rallentamento chiaramente nel 2023 a scrivere, da un lato a fattori di domanda e poi a fattori di offerta. Domanda, già già detto segretario generale, abbiamo consumi, quindi i consumi interni in tutto sommato non sono però crollati, quindi c'è una componente abbastanza resiliente che tiene, chiaramente vi ha influito l'inflazione e soprattutto la rigidità nella discesa di prodotti altra frequenza d'acquisto, quindi beni per la casa, beni per la spesa. Poi come sapete lo 0,8 di Istat di ora è collegato sicuramente a fattori energetici e in parte anche ai servizi di trasporto e ai servizi culturali. Poi nel fattore di domanda vi sono anche chiaramente gli investimenti, questi sono collegati, è chiaro, congiuntura debole, economia debole, abbiamo un'incertezza geopolitica e chiaramente i tassi di interesse bancari che tendono a rallentare, quindi poi abbiamo anche i dati di Banca Italia che ci fanno vedere come almeno al secondo trimestre, perché il terzo trimestre è uscito, però c'è un rallentamento nei prestiti sia per le piccole imprese che per le grandi imprese e quindi questo va a influire sull'investimento, anche se potrebbero avere fattori positivi per quanto riguarda anche il PNRR, quindi contributi al PNRR e anche a contributi in conto capitale collegati a incentivi e sgravi e agevolazioni varie, quindi potrebbero contribuire in positivo. Questo va a tenuto voto, infatti la votazione non è negativa. Fattori di domanda, export netto, quindi qui abbiamo chiaramente un rallentamento, bello l'export più 6%, però sapete benissimo che se io lo vado a deflazionare, a togliere la dinamica di prezzi, quindi chiaramente si rallenta. C'è un contributo minore da export cornetto questo anno, probabilmente il 2024 potrebbe ripartire, io vi parlo del secondo semestre 2024. Siamo in 2024, siamo arrivati piuttosto cauti nella valutazione, come un posto che correntemente con Istat, con OECD, sono uscite le stime OECD l'anno settimana scorsa, 2024-07. Fattori di offerta, fattori di offerta è molto semplice, abbiamo un terziario che ha avuto l'effetto sostitutivo sulla ripresa nel 2022, se il 2021, la prima parte del 2022 era l'anno della manifattura, nel 2022 della seconda parte c'è stato il contributo terziario. Chiaramente non pienamente un pensativo, perché abbiamo un rallentamento sia della manifattura da un lato e delle costruzioni all'altro. Il rapporto Cresme pubblicato sull'entretto di oggi, l'avete visto, c'è un calo degli investimenti pesante, però nelle costruzioni, sì, è vero, il settore non va bene, perché c'è discorso legato al interesse, limita, c'è un calo nelle transazioni immobiliari, però è anche vero che il clima di fiducia tiene. Nell'interno delle costruzioni abbiamo anche il fatto che la domanda di lavoro va avanti, poi ci sono gli aspetti legati al PNRR. Nella manifattura non è così negativo come può emergere i dati di contabilità nazionali, in realtà noi abbiamo la nostra indagine sulla congiuntura manifatturiera, locale, siamo la Camera, una delle proprie Camere che in Toscana porta avanti e che poi l'altra indagine sulla manifattura porta avanti alla Confindustria Centro Toscana Nord, dove c'è Lucca, Massa e Pisa, se non sbaglio, di tre province, Lucca, Massa e Prato. E quindi, scusate, praticamente portano avanti l'analisi congiunturale su questo aspetto, insieme a loro. Chiaramente, se guardiamo la dinamica congiunturale della manifattura fiorentina fino a metà anno in sistema attenuto, perché ci sono contributi abbastanza importanti in settori come meccanica e farmaceutico, questo lo ritroviamo anche nell'export. Quindi i settori che all'interno dei mercati esteri sono andati bene, li ritroviamo anche all'interno della congiuntura manifatturiera, con rallentamenti per quanto riguarda i produttori di input, ma input per gli altri settori manifatturieri, perché gli input per il comparto, costruzioni, e qui mi collego all'aspetto positivo, vanno, cioè è positivo il contributo. Quindi abbiamo un rallentamento sicuramente nel terzo trimestre, un rallentamento che rimane su valori positivi, cioè la dinamica tendenziale della produzione manifatturiera dal terzo trimestre, secondo le nostre stime, è positiva, non è negativa, a meno per Firenze. E questo è coerente anche con quello che emerge da altre indagini fatte da Unione Camere nel nord del paese, quindi mi riferisco a Piemonte, Lombardia e Veneto, e soprattutto Firenze, una struttura produttiva simile, per certi versi, a quella che è Milano. E l'aggiuntura manifatturiera milanese fa più o meno per quella fiorentina. Quindi è importante guardare queste cose. Chiaramente noi elaboriamo anche un indice semestrale di fiducia manifatturiera, che ci fa vedere che almeno fino al primo semestre, chiaramente le aspettative non sono rose, è composto da quattro indicatori che riguardano la produzione, l'economia generale, gli ordinativi e l'occupazione. Un altro aspetto importante è il rallentamento dei prezzi di produzione. Il Presidente poi ha cominciato, in un parte di nuova infatturiera, e poi può andare piano piano a generare effetti di secondo livello nei prezzi di consumo. Andando verso la chiusura, faccio due slide rapidi sulla domanda di lavoro, e questo è l'aspetto abbastanza positivo. Quella slide precedente faccia vedere un po' l'evoluzione trimestrale della domanda di lavoro. La domanda di lavoro, chiaramente attenuto, non è proprio rallentata. Qui vediamo come nel corso della pandemia, dopo il crollo, ha ripreso un ritmo abbastanza consistente, coerentemente con quelli erano i valori pre-pandemia. Domanda di lavoro, quindi parlo di industria e servizi, quindi siamo dal lato privato, quindi business sector. Correlativamente abbiamo un aumento abbastanza verticinoso della difficoltà di riferimento. Questo è collegato sia a fattori di competenze, quindi competenze green, competenze digitali, competenze trasversali, ma anche a fattori d'offerta. Io mi riferisco soprattutto al calo delle forze di lavoro, cioè perlomeno della popolazione che ha da lavoro. Anche in base all'estima ISAT da qui ai prossimi 10-20 anni ci sarà un calo abbastanza pesante, e questo lo ritroviamo anche all'interno della domanda di lavoro. Poi chiaramente qui ci sono fattori salariali, quindi spostamenti anche all'interno dei vari settori al corso della pandemia. Qui ci sono vari elementi che contribuiscono alla rigidità della difficoltà di riferimento, che è oltre il 50%, tra cui anche la mano d'opera extracomunitaria. C'è un rallentamento degli immigrati in età da lavoro che entrano nel mercato di lavoro perlomeno locale, Toscano, rispetto al periodo prepandemico. Chiaramente questo lo vedo anche nelle figure questioni più importanti e più difficili da reperire. Non abbiamo solo ingegneri, quindi figure di livello specialistico elevato, ma anche figure collegate alla manifattura. E quindi questo è coerente con il quadro analitico che ho presentato prima sull'indagine manifatturiera. Ma è coerente anche con la tenuta al comparto costruzioni, perché c'è anche personale difficile da reperire nel settore costruzioni. Quindi io cerco di presentare dei dati congiunturali, che mi fanno da sostegno ai dati strutturali e con un certo margine di coerenza, livello di coerenza fra di loro. Poi qui se entrano in dati e conoscete tutti, inutile ve li faccio vedere, abbiamo più Banca Italia, abbiamo Labi, quindi rallentamento. Chiaramente, come sapete, la qualità del credito non è deteriorata in maniera pesante. Il tasso di deterioramento non è peggiorato. Un'onferma per quanto riguarda l'erosione dei risparmi, abbiamo dei depositi, perché abbiamo una contrazione dei depositi e poi la ritroviamo anche nell'aumento risparmio finanziario, in parte, o perlomeno facendo riferimento alle fasce di reddito medio-alte. Chiudo con un punto di discussione, che sono le ottime stime IRPET presentate per quanto riguarda l'anno e all'alluvione, perché dovremmo anche considerare nella stima del PIL 2023, in parte, perlomeno, quello che è successo il 2 novembre. Quindi queste stime IRPET sono fatte prima da delibera commissaria del 1998 del 15 novembre, però mi danno l'idea di quello che è successo. 2 miliardi di danno complessivo, perlomeno predelibera in provincia di Firenze, c'è 1.500 imprese, circa 300 milioni di danno sulle famiglie. Il danno sulle imprese è stato ricostruito in maniera abbastanza articolata, perché comprende effetti diretti, quindi perdita di valore aggiunto, perdita dei magazzini e danni a impianti e infrastrutture aziendali. Poi c'è l'effetto indiretto e quindi la perdita che si ha nelle razioni di scambio cliente-fornitore, quindi per le imprese fornitrici di beni e servizi dell'azienda alluvionate. E poi abbiamo l'effetto indotto sui consumi, che potrebbero rallentare, a seguito di un rallentamento del reddito disponibile collegato a eventuali ammancati pagamenti degli stipendi da parte delle imprese. Ecco, chiaramente questa stima, che è ben documentata nel report IRPET, manca, e questo è segnalato, di quello che è le spese di ricostituzione delle infrastrutture, quindi infrastrutture fluviari, strade, ponti, da parte della regione. Manca quello, in quell'aspetto è un aspetto importante, IRPET segnala, quindi è una prima stima che dà conto da parte del danno. E quindi poi è uno spunto di discussione, per la riflessione successiva ci sarà. Io ho chiuso, quindi siamo qua a disposizione. Grazie, grazie Marco. Grazie a Marco Battazzi, grazie al segretario generale Salvini per questa panoramica sulla situazione economica. Adesso entriamo nel merito del nostro colloquio dell'economia, il cui protagonista è Antonio Patuelli, presidente Abbi, che io chiamo sul palco. Prego, presidente. Se può sedersi al centro, grazie. Al centro. Il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Basilichi, se può tornare sul palco. Siete qui, presidente. E chiamo la collega giornalista del Sole 24 Ore, Laura Serafini, che condurrà questa chiacchierata e che ringrazio. Ciao Laura. Ti puoi sedere. Grazie. Prego, buon lavoro. Ok, buongiorno. Innanzitutto grazie, grazie dell'invito. I temi mi pare che siano tanti, anche caldissimi, il rapporto banca-impresa, imprese radicate nel territorio, un territorio, abbiamo visto, estremamente operoso e che ha subito delle ferite, delle ferite che comunque produrranno degli effetti. Io però vorrei partire in questo confronto, partendo da un passaggio del primo discorso che il nuovo governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha fatto nei giorni scorsi a un evento, un anniversario del credito cooperativo. E il governatore ha detto che un debito elevato sottrae risorse alle politiche anticicliche, agli interventi sociali, alle misure in favore dello sviluppo, accresce il costo dei finanziamenti per le imprese private, riducendone la competitività e l'incentivo a investire. Allora, il debito pubblico è un convitato di pietra, in qualsiasi discorso si voglia fare sul futuro di questo paese. E il passaggio del governatore allude a una tassa implicita che le imprese debbono pagare, sia nei finanziamenti, nel credito, ma anche quando vanno sul mercato, anche nelle emissioni obbligazionarie, per il rischio paese legato all'interrogativo futuro della sostenibilità nel tempo di questo debito. Allora, Presidente Basilichi, io partirei da lei proprio per dirci quanto tutto questo pesa in quello che si fa ogni giorno sul territorio. Ma, direi che nella domanda c'è la risposta. Io credo che è ovvio che pesa tantissimo, questo direi che l'intelligenza di questa stanza merita una risposta più profonda che non riesco in questo momento a trovare, se non sicuramente, io credo che noi siamo in un momento molto complicato. E purtroppo il debito è enorme e il costo che non vediamo, come diceva giustamente un convitato di pietra, ma dall'altra parte dovremmo cercare di fare tutto quello che è possibile fare noi per evitare e di ridurre il gap. Perché purtroppo, quando lo trasformiamo in campo dell'economia reale, noi che siamo in Europa e ci diciamo di essere tutti per l'Europa, perché sicuramente è una dimensione che ci appartiene per mille e uno motivi, ma c'è difficile come imprese e imprenditori essere differenti all'interno dello stesso paese in cui ci vogliamo tutti rivedere. E quindi io fatico a un imprenditore che arriva da me e mi dice Leonardo, ma perché io dovrei investire in Italia, visto che siamo in un'Europa unita e posso investire da un'altra parte dove ho costi inferiori che riguardano energie, fiscalità e costo del denaro? Io non so rispondere. Quindi lei mi fa una domanda e qui mi trova in fallo. Io non so rispondere. E onestamente mi piacerebbe essere insieme al Presidente dell'ABI a condividere una risposta che non ci divide. Non ci divide. Non ci divide. Noi non possiamo essere divisi. Non possiamo. Quindi io... è una domanda che lascio volentieri la condivisione della risposta al Presidente Patuelli, caso mai. Però io chiedo solo di essere insieme. Ok? Perché io non sono qua a difendere le imprese verso le banche, ma io sono qua a aiutare insieme l'economia che deve crescere, l'economia sana. Insieme. Presidente Patuelli, prima di girarle lo stesso tema, quello che mi viene così da dire questa tassa alla fine la pagano anche le banche perché la linfa vitale delle banche in un sistema come quello italiano dove il credito è una delle principali fonti di finanziamento sono le imprese. E più volte lei lo ha detto quando il governo ha stanziato misure per la pandemia eccetera, sono misure per le imprese, per la liquidità delle imprese, non sono misure per le banche. Però è chiaro che se l'impresa si ammala e fatica, alla fine soffrono anche le banche. banche che peraltro non possono fare tanto facilmente quello che potrebbe fare un'impresa diciamo virtuosa e dire sai che c'è, vado a operare all'estero, sposto lì la mia sede e quindi mi tolgo da questa situazione di difficoltà. Le banche italiane hanno anche il tema, non solo quelle italiane, della grande difficoltà in questo momento per questioni normative di creare anche delle alleanze, delle aggregazioni oltre i confini nazionali. Quindi comunque siete limitati da questo punto di vista. Tutto il tema del debito poi va a impattare anche sulle prospettive future. Qui le apro un altro tema. Freno, andiamo dopo. Però ci sono tante questioni che arrivano a fine anno. Io ringrazio la dottoressa Serafini che è un'enciclopedia parlante per cui la mia preoccupazione è che mi ponga raffiche di domande a cui io faccio fatica a seguire il ritmo, non il contenuto ma il ritmo almeno. Un saluto particolare alla Camera di Commercio, ringraziamento sincero a tutti loro, a cominciare dal Presidente Basilichi. Per me è anche un'emozione tutte le volte torno a Firenze, il più possibile per quel che mi riguarda. Per me sono emozioni. Venire qui in Piazza Mentana alla Camera di Commercio mi produce l'emozione del ricordo di quando venivo a trovare Alberto Carmi qui in Camera di Commercio e di conseguenza non sono luoghi conosciuti, sempre più belli, sempre più belli, sempre più ricchi di stimoli. Debito pubblico, premessa e numeri aggiornati al minuto. Prima di tutto noi abbiamo da una trentina d'anni da Maastricht in testa i parametri del debito pubblico sul prodotto interno lordo. E' bene averli, perché questo è l'indice di sostenibilità prospettica. Però gli interessi non si basano sugli indici, si pagano sugli ammontari. E questa attenzione all'indice sul PIL fa dimenticare troppo spesso l'ammontare il mucchio e il mucchio s'accumula tutti gli anni, tutte le legislature, ininterrottamente dal 1967 l'anno dopo dell'alluvione. 67, 67. La prima domanda, può andare avanti all'infinito la crescita dell'ammontare del debito pubblico? Per me la risposta è no. Anche perché se uno dice, ah ma in proporzione al PIL noi non abbiamo delle percentuali che siano molti più rispetto agli altri. Sì, ma l'anno che ci viene la pandemia, ci è andata bene che la pandemia è arrivata sostanzialmente per tutti e quindi ci sono stati aiuti per tutti e soprattutto per l'Italia. Ma se un disastro viene soprattutto a noi, non è che abbiamo delle polizze di assicurazione. Allora, l'indebitamento all'infinito è un concetto sbagliato, sbagliato per ciascun privato, famiglia e impresa e sbagliato anche per lo Stato. È sbagliato, è sbagliato. Bisogna mettere un limite all'indebitamento e io lo vado dicendo, bisogna mettere innanzitutto un tetto all'ammontare totale del debito pubblico, un tetto. Poi non è che questo tetto diventi un dogma della fede, ma se l'economia italiana si rimette di buona lena, se c'è una possibilità di ridurre il debito pubblico, allora si ragiona su tutto. Ma non può essere ammissibile il principio che il debito pubblico è qualche cosa che può crescere all'infinito. Questo è un concetto che dobbiamo demolire. La seconda questione è quella relativa al costo del denaro per il debito pubblico, che parliamoci chiaro è l'altro elemento condizionante perché la BCE definisce i tassi, ma i tassi giuridici della BCE poi diventano dei tassi reali facendo i conti con il mercato. Il mercato sta molto attento all'ammontare del debito pubblico e io vi dico che sono preoccupato quando le analisi europee cominciano a dire sì, ma l'Italia ha tanto debito pubblico, ma anche tanto debito privato. Mi tremano le vene i polsi perché se dobbiamo fare fronte al debito pubblico col debito privato non mi sembra che sia una cosa semplificabile. Allora, andiamo a vedere il costo del debito pubblico. Noi abbiamo un dibattito un po' limitato. Il dibattito un po' limitato è un dibattito sullo spread. Lo spread in questo momento è 1,74. Questa mattina a quest'ora 1,74. E quindi la risposta normale è di dire mica granché. Abbiamo visto anche 500, 600 pochi anni fa e quindi anzi vi era il timore che andasse molto più in alto. E quindi viviamo più tranquilli. Io non è che voglio creare agitazione, io voglio creare realismo e completezza di analisi. La prima faccenda è che noi abbiamo lo spread più elevato di tutti i paesi dell'area dell'euro. Nemmeno la Grecia ce l'ha come noi, per essere precisi. In secondo luogo il benchmark, l'elemento di confronto era in origine la Germania fortissima, con i tassi a zero, che faceva ricchezza e via di questo genere, la Germania non è mica più quella. Attenzione a seguire unicamente, utilizziamo anche lo spread, ma non solo lo spread, perché storicamente un secolo fa, quando la Germania andò a capofitto e l'Italia doveva seguire lo spread della Germania, non è che la Germania è un paese stabilmente, finanziariamente solido nei secoli. È un paese che ha delle fasi molto solide e anche degli svarioni. Quindi andiamo a vedere la cifra assoluta, perché se noi guardiamo le cifre assolute, allora a quel punto abbiamo il dato reale e il dato oggettivo. La cifra assoluta è che in Italia oggi il rendimento e quindi il costo che lo Stato paga a chi mi sottoscritto, il rendimento dei titoli a dieci anni italiani è 4,06. Attenzione, si è ridotto, ma si è ridotto tutto il mercato negli ultimi mesi, si è ridotto tutto il mercato, perché io poi faccio i confronti con gli altri. Se lo spread con la Germania è rimasto attorno a 1,7 e 1,8 e noi siamo andati a 4,06 vuol dire che si è ridotto tutto. È un elemento da tenere in conto, non per questa domanda, ma spero che ci sia l'occasione per parlare di tassi. Dopo di noi troviamo la Grecia al 3,50. Quindi noi abbiamo 56 punti base di costo del debito pubblico a questa mattina in più della Grecia e la Grecia è sempre la peggiore dei nostri vicini di casa. La Spagna al 3,32, il Portogallo il 2,97 e la Francia il 2,88 per parlare dei Mediterranei. Poi andiamo agli altri, Germania 2,3, Belgio 2,9, Irlanda 2,6, Paesi bassi, 2,6. Come vedete gli spread sono ristretti per tutti perché la Germania non è più la locomotiva d'Europa in questi mesi. Però per noi il costo del debito pubblico ancorché in calo perché i tassi reali, i tassi reali sono già in calo anche se i tassi della BCE sono fermi, sono già in caso. Calo i tassi reali però noi paghiamo su uno stock enorme di debito pubblico il 4% e per fortuna che abbiamo l'euro perché dopo vent'anni di polemiche serali in cui tutti dicevano le banalità che volevano liberamente dire, noi dobbiamo dire una cosa certa. Per fortuna abbiamo l'euro perché se in una crisi energetica con una guerra in Medio Oriente e una in più in Ucraina non avessimo avuto l'euro, noi avremmo riavuto i tassi della vecchia lira che al primo di fondo superava il 10%, ma io ricordo i tassi anche al 19,5% e per essere completi è il tasso più basso della storia della lira del Regno d'Italia e della Repubblica italiana. Il tasso più basso è il 3,5%, sotto il 3,5% non c'è andato mai nessuno, mai nessuno, sopra di moltiplici sempre. Quindi per fortuna abbiamo l'euro ma non dobbiamo abusare dell'euro medesimo, anzi dovremmo mettere uno stop alla crescita del debito pubblico con un tetto per poter ragionare sulla riduzione di questa che è la palla a piede per le imprese perché pagano il denaro di più dei concorrenti degli altri paesi a seguito del costo del denaro per il debito pubblico perché il debito pubblico è quello che fa parametro per la raccolta delle banche, cioè nel momento in cui il debito pubblico viene emesso a una certa cifra, le banche per far raccolta per le loro obbligazioni, per i loro depositi vincolati, certificati di deposito eccetera, potranno essere a tassi molto diversi da quelli dei titoli pubblici? No. E quindi è quello l'indicatore più vero. Presidente Basilichi, mi consenta di fare la seconda domanda che volevo fare prima per chiudere questo tema macro con il Presidente Patuelli. Lei ha detto che i tassi BCE sono fermi ma i tassi reali stanno scendendo. È un'affermazione estremamente interessante. La ricollego al monito che ha fatto nei giorni scorsi il Governatore Panetta. Attenzione perché l'inflazione sta scendendo, l'energia è calata eccetera eccetera, però c'è un'altra componente che sta adesso facendo pressione sulla discesa dell'inflazione ed è gli effetti di una politica monetaria che stanno andando più velocemente del previsto, sono più forti del previsto, stanno facendo rallentare le economie e questa spinta a sua volta porterà giù l'inflazione. Un monito perché ovviamente sappiamo che nella BCE ci sono dei falchi che vorrebbero invece che la stretta andasse avanti non con i tassi ma con interventi sulle politiche di riacquisto dei titoli di Stato. Ecco, su questo aspetto, su quello che deve accadere nei prossimi mesi, qual è il suo punto di vista? Grazie dottoressa. Allora, torniamo indietro. Noi abbiamo avuto un decennio di tassi a zero e anche tassi sotto zero, perché se si va nella Nadef, che è il documento di politica economica su cui si basa la legge di bilancio, nella Nadef c'è una tabella, pagina 18 e pagina 20, che è la tabella 1.5 dove ci sono gli indicatori, la curva dei tassi dei titoli di Stato, dei BTP e dei BOT e si vede che i BOT per nove anni sono stati con rendimento negativo. Quindi noi abbiamo avuto tassi a zero, rendimenti negativi dei BOT e rendimenti negativi per le banche ordinarie che depositavano in BCE, Banca d'Italia, Sistema Europeo. Quindi noi abbiamo avuto questa fase. Se studiamo storia economica non ne troviamo mai un'altra. Il punto è che l'opinione pubblica si è abituata ai tassi a zero e quindi la sorpresa è stata quando i tassi si sono mossi. Però noi che abbiamo tassi alti per il livello dell'euro, nella storia del confronto con i tassi della lira siamo ancora nella parte più bassa. Siamo nella parte, nella seconda punta in un ventennio di euro ma nella parte, in fascia più bassa di un secolo e mezzo di lira italiana. I tassi della BCE sono stati alzati nel luglio del 22 con una successiva autocritica che la Banca Centrale Europea ha fatto ufficialmente perché nei mesi antecedenti aveva sempre sostenuto che era una fiammata improvvisa e che quindi non c'era bisogno di muovere tassi. Poi a un certo punto si è decisa di muoverli e quando li ha mossi è stata una scala a pioli di frequenti innalzamenti. Nel corso di questa salita a pioli la Banca Centrale Europea ha detto che si era sbagliata e si era sbagliata nelle analisi e che quindi aveva ritardato l'aumento dei tassi che significava l'uscita dei tassi a zero, uscita dei tassi dal livello zero o sotto zero. E l'obiettivo conclamato è quello di arrivare all'inflazione del 2%, numero che io vorrei non diventasse magico perché il 2% è un indicatore importante e via di questo genere, ma non è un numero magico perché non vorrei che poi ci si scoprisse che la rigidità sono state troppe e sia andato molto sotto il 2%. Allora, che cosa risulta a me? Sono venuto a Firenze, luogo di qualità, dove io ho passato tanti esami e di conseguenza sono pronto a presentarlo. L'inflazione a novembre 23 nell'area dell'euro è il 2,4. E' bravo. O ci siamo? E ci siamo. Cioè il 2,4 non è mica lontano dal 2. Non è che finché non arriviamo al 2,0 spaccato si sta fermi. Cominciamo a ragionare innanzitutto. La mia idea è che dopo aver ragionato sulla non ulteriore crescita dei tassi, oggi dobbiamo incominciare a ragionare sulla riduzione dei tassi. Le società di rating nell'ultimo mese hanno esaminato e hanno detto che nella seconda metà del 24 potranno calare i tassi. Sì, ma le società di rating non è che sono dei soggetti indiscutibili, ma è loro. Vediamo come vanno le cose. Allora, gli indici ammonizzati ai prezzi al consumo dal settembre 23, che nell'area dell'euro avevano il 4,3, sono andati al 2,4 che ho citato. In Italia a settembre eravamo al 5,6, a ottobre al 1,8, a novembre allo 0,7. In Germania 4,3, 3,2,3. Francia 5,7, 4,5, 3,8, Spagna 3,3, 3,5, 3,2. La tendenza mi sembra che abbia qualche significato, non trascurabile, non trascurabile. Finisco con i numeri, non la tiro molto lunga. Tutto ciò deriva innanzitutto dalla riduzione dei prezzi energetici, di cui ci accorgiamo pure noi guardando le pompe di benzina, ma vediamo anche gli andamenti dei prezzi del petrolio e del gas. Quest'oggi, io ormai vivo da anni con questi meccanismi. Una borsa parlante praticamente. Sì, sono una borsa parlante. Il gas è a 39,80 ed è diminuito, nel senso che abbiamo anche sfiorato i 50 e abbiamo sfiorato i 50, guarda un po', dopo che c'è stata la nuova guerra medio orientale con i rischi di un incendio generale. Quest'estate eravamo andati a 24, non è che sia un caso che viene ridotto il prezzo del gas ai consumatori, perché abbiamo alle spalle in Italia un approvvigionamento. Nonostante abbiano fatto una riunione poco simpatica dei paesi dell'OPEC+, come Basilea 3+, riunione poco simpatica, perché invece che essere una riunione distensiva, è una riunione in cui cercano di guadagnare di più distribuendo di meno, il prezzo del petrolio non arriva a 79 dollari. Allora finisco. Finisco dicendo che è arrivato il momento di ragionare sui dati reali, anche quelli di tendenza, per incominciare a vedere più ravvicinate delle previsioni di un mese fa delle agenzie di rating, perché il reale è più veloce normalmente dell'agenzia di etica, perché forse deve essere ritenuto più imminente di quel che dicevano le agenzie di etica un inizio di riduzione dei tassi, che non potranno tornare a zero, sotto zero, perché quella è una fase eccezionale. Ma non è che debbano rimanere fissi per l'eternità. Un qualche segnale sarebbe molto utile per la ripresa dello sviluppo, sarebbe molto utile per ridurre i rischi di sovraindebitamento di coloro che sono sovraindebitati, per ridurre il rischio di aumento dei deteriorati e per dare anche più fiducia a tutti quelli che i soldi ce li hanno, perché molti, non tutti, ma molti la liquidità ce l'hanno e stanno aspettando il momento per investire sia famiglie che erano abituate a tassi risori e che quindi si sono fermati a comprare nella speranza che si riabbassino i tassi. Sia imprese che avendo accumulato liquidità sono attenti all'uso della liquidità nei momenti e nelle occasioni. Grazie. Poi starò più zitto. No. Presidente adesso le faccio una domanda, Presidente Basilichi, che lei può parlare altrettanto tempo. Allora no, sto scherzando, però su queste considerazioni che sono importanti, perché se, come aussica il Presidente Patuelli, si va verso l'inizio del taglio dei tassi, è vero che intervenire sulla, come dire, tassa implicita del debito pubblico è più difficile e richiede più tempo, però se la morsa comincia ad allentarsi, il beneficio, l'ossigeno per le imprese diventa immediato. Tant'è vero che c'è qualcuno, a mi pare che forse anche la stessa Presidente della BCE, la GARD, insomma, vari osservatori hanno detto, c'è addirittura la possibilità di un rimbalzo, no? Il prossimo anno. Allora, qui due riflessioni. Mi richiamo di nuovo al Governatore, che in qualche modo dice non basta più dire c'è un rimbalzo e quindi evviva va bene. L'economia italiana soffre di problemi strutturali e un problema strutturale che è accentuato dal calo demografico è quello della bassa produttività, la più bassa in Europa e quindi è un invito implicito, in presenza di mancanza di forza lavoro giovane, di investire, di lavorare sull'innovazione. Mi pare che dall'indagine che avete presentato oggi emerga la consapevolezza virtuosa delle imprese, no? Gli imprenditori che puntano sulla società di capitali, sulla patrimonializzazione, soprattutto chi è sul campo da tanto sa che per restare in piedi, per competere deve cambiare. Però sicuramente anche sfide importanti oggi sono per il tessuto delle piccole, piccolissime imprese italiane. E proprio perché questo tessuto è così, mi viene in mente l'ultima citazione del governatore, al credito cooperativo ha detto questo. Gli stretti rapporti con la clientela, la conoscenza dell'economia locale conferiscono alle banche di credito cooperativo un vantaggio economico competitivo nel finanziamento delle imprese di minore dimensioni. Quindi c'è un'area che dà potenzialità a quella forma di credito, Presidente mi ascolti anche lei, che sta molto vicino al territorio, quando oggi la tendenza magari delle grandi banche anche per fare sinergie di costi, insomma per fare efficienza, è quella di ridurre la presenza. Allora, quanto questo aspetto per chi fa impresa è importante? Allora, anzitutto per rispondere o condividere il percorso che diceva il Presidente Patuelli, noi non aspettiamo i tassi che vadano a zero, tutt'altro, abbiamo sempre pensato che fosse un fenomeno straordinario, anche non sano per certi versi, non accettiamo che siano a questo livello, vista le condizioni attuali dell'economia, come veniva dettagliatamente riportato dal Presidente Patuelli. Quindi ci aspettiamo assolutamente un'inversione di tendenza, che sia il giusto numero, che stia tra quello che non è zero e quello che non deve essere quello attuale. Ve lo dico perché, cioè speriamo, perché quell'elemento alimenta e fa partire tutta una serie di percorsi e quegli investimenti che sono necessari, che in quel momento tutti stanno tenendo sospesi, per andare anche a risolvere quel problema che diceva appunto nella domanda rispetto all'occupazione, investimenti e innovazione. La domanda rispetto all'affermazione, al principio dell'istituto, alle banche di piccole di prossimità è, questa è interessante, perché io chiaramente con le banche ci lavoro spesso anche per mestiere professionale come impresa e chiaramente sappiamo tutti che oggi e tutti gli imprenditori di qualunque dimensione sentono dire che le banche, per effetto della BCE, non hanno leve rispetto alle procedure che nel tempo si sono stratificate e si stanno stratificando e quindi la risposta molte volte al credito è difficile, negativa, perché tutti questi meccanismi che sono stati montati dalla BCE non le portano nella condizione di poter erogare o di prendere delle risposte come vorrebbero. E la domanda invece mi porta a fare una riflessione diversa, perché evidentemente qualche banca sul territorio riesce a dare una risposta, riesce a interpretare soggettivamente l'interlocutore. E quindi qui io mi pongo una domanda che sta su tutto, ma non è che, e non volesso una provocazione Presidente, ma non è che c'è la scusa della procedura BCE molte volte proprio perché non si conosce più il territorio che quindi ci porta a dire che non do il credito, quando questa può essere superata se invece il territorio lo conosciamo, o comunque può essere in qualche maniera attenuata se il territorio lo conosciamo, perché non è possibile che una BCC possa dire di sì perché conosce l'imprenditore e una banca grande no. Io ho sempre sostenuto e ho sempre difeso che le procedure erano quelle uguali per tutte. E in effetti Panetta ha tirato fuori questo dubbio, che lo pongo qua con trasparenza. Presidente, giro la domanda allora. Le banche non sono un sistema, non lo possono anche essere giuridicamente da 30 anni. Un tempo le banche dovevano fare tutta l'altezza cosa, nelle medesime condizioni e avevano delle sanzioni, quando non lo facevano, si chiamava cartello bancaio. Noi siamo giuridicamente, obbligatoriamente nella condizione esattamente opposta. Quindi le banche sono tutte diverse fra di loro. Noi in Italia negli ultimi 30 anni, il dottor Peruzzi ne sa mille volte più di me perché ce l'ha raccontato per anni e implicitamente in filigrana, siamo stati sottoposti a ondate di mode. Io sono refrattario non alla moda fiorentina, alla cultura della moda, ma a seguirle le mode e di conseguenza noi abbiamo in Italia in questo momento 99 gruppi bancari o banche indipendenti più qualche centinaia di filiali di banche estere. 99 gruppi bancari e banche indipendenti quindi che hanno diritto e sede in Italia. Queste sono di ogni dimensione e di ogni concentrazione perché ci sono delle zone del paese dove c'è una maggiore concentrazione di altri, non c'è una concentrazione uniforme per nessuno. Non c'è una concentrazione uniforme per nessuno. Di conseguenza le concentrazioni hanno portato le sinergie e hanno portato le limature dei doppioni. Ora io ho una vita nazionale, giro soprattutto sulle ferrovie dello Stato come stamattina. Però vivo dei mercati anche vitali, soprattutto quello dell'Emilia e della Romagna. Noi viviamo una concorrenza sfrenata di ogni tipo di banca. Sfrenata. Non è che se una è più piccola c'è sul mercato o una è più grande c'è sul mercato. La concorrenza è sfrenata a seconda dei soggetti, delle occasioni, dei momenti, si emerge uno, emerge quell'altro. E poi ognuno ha la sua strategia. Ci sono coloro che sono solo banche digitali e coloro che sono solo banche con sportelli e che non aprono conti digitali. È un osmosi però, attenzione, la radicalizzazione è in fase di osmosi. Quelli che sono nati come banche solo digitali o li aprono o li comprano gli sportelli e magari non li chiamano sportelli, non hanno l'ufficio cassa, non il banco va fuori e li chiamano uffici finanziari. Peraltro le statistiche sono un po' vecchie come impostazione perché mi contano solo gli sportelli e mi dovrebbero contare gli sportelli e gli uffici finanziari perché la differenza è di avere il cassiere che fa le operazioni. Non penso che sia quella l'attività principale quando ci sono dei bancomat molto intelligenti dove si fanno i versamenti, si fanno tante cose. Quindi io vedo una diversificazione più assoluta. Poi le banche che avevano solo sportelli, pian piano diventano anche utilizzatrici sempre crescenti delle tecnologie. Quindi c'è un osmosi nella concorrenza, le statistiche. Io apprezzo molto le vostre che ho sentito stamattina, molto qualificate, molto dettagliate, con grandi articolazioni. Però voi che siete anche statistici mi insegnate che le regole della statistica seguono un po' come l'intendenza, non è che le regole della statistica si aggiornino in tempo reale, seguono i fenomeni in immediato. Questa roba degli uffici finanziari è dilagata. In piccolissimi comuni ci sono gli uffici finanziari e di conseguenza devo fare la somma, fare l'ufficio finanziario. Non è che mi vanno lì per cambiare l'assegno, per intenderci. Però quando devono farmi raccolta, consulenza e impieghi e l'ufficio finanziario me lo fa. E poi c'è tutto il mondo delle poste, quali hanno il banco posta, ancorché privo di licenza bancaria, vende, compra, fa e via di questo genere, noi dobbiamo vedere un ambito di concorrenza e un mosaico di mercato che tiene insieme tutte queste tessere. Siamo a Firenze, rendo omaggio a un grandissimo restauro del mosaico del Battistero, uno degli ultimi grandi mosaici bizantini fatti a Ravenna, a Firenze, sempre con una grande connessione con la mia Ravenna. Quindi per finire il ragionamento, il ragionamento è che non c'è una livella che appiattisce tutto, non c'è una livella. Io vado un po' contro tendenza semplicistica. Quando aumentano i debiti delle famiglie e delle imprese non è che io abbia un'esclusiva gioia. Sono analitico nell'andare a vedere, ovvero sia ci sono delle fasi in cui aumentano i debiti e non aumenta la ripresa economica. Allora quella è una fase di recessione e di difficoltà. Poi ci sono invece le fasi keynesiane in cui i debiti aumentano a sostegno dello sviluppo. Sono due cose diverse queste. Il debito pubblico italiano è tutto a sostegno dello sviluppo? Magari una parte del deficit annuale sarà a sostegno dello sviluppo, ma tutto il peso del debito vecchio è peso, non è sostegno dello sviluppo, è handicap dello sviluppo. Quindi noi dobbiamo distinguere, dobbiamo distinguere i fenomeni, distinguere le fasi e quindi essere molto più analitici e meno propagandistici. Grazie Presidente Patuelli. Presidente Bassirichi, torno da lei per parlare invece di una questione specifica che ha colpito questa regione. È stata citata prima, nell'Uvione, le stime parlano di 2 miliardi di danni al netto, poi dei costi delle infrastrutture, circa 1.500 imprese, proprio industrie che sono state colpite e che hanno subito degli ingenti danni. Ecco, che cosa ci si aspetta? Che cosa servirebbe in situazioni come queste che, ahimè, ha vissuto anche l'Emilia Romagna, la regione del Presidente Patuelli, che purtroppo sappiamo saranno destinate ad aumentare per i cambiamenti climatici. E poi a Valle le chiedo, questi strumenti che ha introdotto il Governo, per lo meno per ora sulla carta, perché sappiamo che ci sono tutta una serie di aspetti da migliorare per far funzionare, quelli delle polizze catastrofali, se sono qualcosa che possono servire. Beh, ci aspettiamo, dico una cosa ovvia, ci aspettiamo un aiuto immediato e un supporto immediato. Purtroppo è passato un mese, siamo a un mese oggi e non siamo riusciti, volendo tutti insieme, dare noi come sistema pubblico un contributo immediato a queste imprese. E quindi qua, visto l'occasione, visto la possibilità, io non ho avuto modo di... non abbiamo avuto le proroghe delle imposte, o meglio, diciamo che meglio dire non abbiamo avuto una proroga, sentirsi dire abbiamo avuto quel tipo di proroga. Comunque, soprassediamo al tema specifico, perché chiaramente Camera di Commercio ha messo a disposizione dei fondi a fondo perduto, come tanti altri soggetti hanno messo a disposizione dei fondi, la Regione ha messo a disposizione delle... quindi crediamo che sia giusto raccogliere un unico grande fondo perché poter supportare le imprese, ma noi fino a gennaio, febbraio non arriveremo, onestamente. Il governo credo che non c'è proprio luce, c'è nemmeno l'ombra di un supporto. Quindi devo dire che il 3 di novembre io ho letto con piacere che alcune banche si sono subito messe a disposizione per le imprese. Ognuna con delle dimensioni diverse, ma comunque tutte, in parte, credo una buona parte, si sono rese disponibili immediatamente. Allora io chiedo che dobbiamo trovare uno strumento che si aiuta, che sia immediato, perché bisogna abituarci, purtroppo. Noi parliamo di storia, ora di presente, ma ai MEV dobbiamo pensare anche che questa è una cosa che succederà, quindi rispondo anche alle assicurazioni. Visto che abbiamo un sistema bancario pronto e solido, visto che abbiamo, stabiliamo un modo per creare una bretella, se mi posso permettere di utilizzare, che dal giorno dopo della crisi, qualunque sia in quel momento, si riesca a creare la condizione per supportare un'impresa, fintanto che, onestamente, anche facendo veloce, 3-4 mesi servono per capire i danni, la quantità dei danni, censirli, perché poi ci si annidano di tutti. Sappiamo, no? Però quindi dovremmo trovare un meccanismo e in questo caso credo che la risposta delle banche è un modello, che non voglio dire che sia abi perché, come dice, non è sistema, ma comunque potrebbe creare la condizione per, perché le banche pronte possono creare le condizioni e noi potremo, come soggetti istituzionali, coprire immediatamente, garantire istituzionalmente anche la copertura degli oneri finanziari, se laddove servisse o qualunque altro strumento, ma immediato, prepariamolo il prodotto, creiamo la condizione, tanto abbiamo capito che col governo non si fa. Tra privati, tra soggetti privati, ricordo come le banche sono, forse noi si può creare una condizione. Noi qua siamo pronti, devo dire senza fare nomi con alcune banche, mi sono sentito e hanno ben chiara più di tutti, più di tutti, la situazione dei concorrentisti, perché le banche conoscono bene il territorio e sanno ognuno per la propria dimensione quante imprese hanno in difficoltà e che tipo di richieste gli fanno le imprese. Quindi noi dovremmo aiutare queste banche a fargli dire di sì laddove c'è un'esigenza e magari il correntista, l'impresa è un po' al limite, perché avrà già consumato il suo foto, il suo fido, presupponiamo, perché tanto noi abbiamo imprenditori che non ne hanno bisogno o imprese che non ne hanno bisogno e sanno bene che neanche vogliono chiedere niente, perché non gli interessa, quindi la condizione emotiva di dire tanto non ci aiuta nessuno, ma non hanno bisogno perché hanno i conti attivi e il problema non esiste. E che invece imprenditori che hanno bisogno, ma se hanno bisogno vuol dire che sono in difficoltà e che hanno già ottenuto dalla banca tutto quello che potevano ottenere e quindi noi bisogna lavorare su questi, che è una parte di cui le banche possano velocemente fare una fotografia della situazione molto meglio di tutti noi e possano aiutarci a capire chi e quanto e come e poter trovare uno strumento per i tre mesi, quattro mesi che servono per coprire da quando arriveremo con, possa dare il supporto immediato, chiamiamola emergenza e qui arriva l'assicurazione. Io sono contento se le assicurazioni poi assicurano, perché qua si troviamo imprenditori che non sono assicurati e per scelta, e non voglio dire che questo sia sostituito dal governo, alcune assicurazioni però dicevano di non pagano, e poi non pagano. E allora voglio dire, se io pago una... abbiamo visto... Per creare le catastrofi. Bene, quindi bisogna creare, bisogna essere onesti, perché assicurazioni, noi abbiamo imprese assicurate, ma siccome la clausolina non era stata ben identificata e quindi non era supportata bene, hanno pagato un'assicurazione, ma il risultato è stato zero. Per cui vorrei capire qual è lo strumento. Sì, provo un attimo solo a rispondere su questo. Lo strumento che hanno messo in manovra è uno strumento che ha due aspetti. Uno è la mutualità, cioè con l'obbligo su un'ampia platea di imprese ovviamente si riducono i costi e si danno le risorse per supportare queste iniziative. L'altro strumento previsto dalla manovra è la controassicurazione, quindi la SACE che consente di dividere a metà il rischio con le imprese e quindi rende più sostenibile poi andare a rispondere a queste esigenze. Peccato, ma l'ANIA l'ha già messo in evidenza che come è stata costruita e scritta la norma è inapplicabile, per cui gli emendamenti, speriamo che verranno fatti emendamenti governativi in cui si renda, diciamo, percorribile questo strumento. Però, Presidente Patuelli, a lei chiederei, ma questo modello... Io volevo dire che, vedete come è brava la dottoressa, fa le domande ma fa anche le risposte, nel senso, dà anche le risposte, nel senso che non è una roba normale, una capacità di questo genere. E con il Presidente Patuelli facciamo sempre questi sketch così per il pubblico. Vengono normali, a natura. No, facevo solo un recap di quello che abbiamo scritto tutti sui giornali, non nulla di... Però no, siccome il Presidente Patuelli che ha detto creiamo un modello, un modello che funzioni per supportare subito le imprese, visto che lo Stato non ce la fa, un modello che poi sia replicabile, perché purtroppo queste cose accadranno ancora. Si può fare? Si può fare e in parte c'è, perché noi quando abbiamo dei problemi pensiamo che si deve inventare da zero. Però ci sono delle cose che ci sono e che magari bisogna sviluppare, far funzionare meglio, tutto che si vuole. Premesso che io di alluvioni vengo con una certa esperienza, perché le 2 di maggio in Romagna, in Emilia e perfino in Toscana, perché hanno debordato anche a cavallo del Crinale, per qualche comune, e quindi un'esperienza. Quindi poi quando ho visto Campi, Fucecchio e via di questo genere, mi si è ulteriormente stretto il cuore. È passato un mese per voi, per noi ne sono passati 5. Devo dire prima le cose critiche che ho sullo stomaco, così me le libero. Oggi è il 5 di dicembre, giusto? Allora, agli alluvionati della Romagna, che cosa è stato detto? È stato detto innanzitutto che potevano sospendere di pagare l'IPEF individuale e l'Imu. Bene, non le abbiamo pagate, le abbiamo aggiornate. Sì, ma in questi giorni, al 30 di novembre, chi vi parla che ha un'azienda agricola di famiglia bisecolare, ha dovuto pagare la rata dell'IPEF, quella di giugno, la rata dell'Imu intera, quella di giugno, la rata dell'IPEF di novembre e entro il 15 di dicembre devo pagare intera la rata dell'Imu. Attenzione bene, io ho un'azienda agricola che mi è andato in larga parte sott'acqua e di conseguenza il prodotto è stato molto inferiore per quantità e per qualità. Io pago esclusivamente imposte patrimoniali, poi quelli che mi dicono che in Italia non ci sono le patrimoniali mi fanno proprio girare le orecchie molto spesso. Di conseguenza io pago reddito domenicale, reddito agaglio e l'Imu, di essere andato sotto, ormai c'è il satellite che certifica tutto, per cui non c'è bisogno di fare la dichiarazione, io vi devo dire che mi aspettavo un po' di riduzione di reddito domenicale, di reddito agaglio e di l'Imu e invece io di diminuzione non l'ho vista. Quindi il primo protocollo bisognerebbe farlo con lo Stato, il quale certifica ormai senza bisogno di gente, con le fotocellule che ha dei satelliti, chi ha avuto l'alluvione nei comuni e nei quali il governo ha attribuito una situazione emergenziale, a quelli gli si fa lo scontro sulle imposte, perché il pagamento integrale di imposte patrimoniali a chi ha avuto un danno emergenziale mi sembra un atto di solidarietà molto forte verso l'eraio, poi chi ha le spalle più grosse resiste e molto licchia un po' come faccio io, ma ci sono anche quelli che vivono solo di quello e di conseguenza non mi sembra che sia il metodo giusto. Le banche, noi come banche abbiamo stipulato come abi un protocollo con la protezione civile, questo protocollo recita che quando c'è un'emergenza e vi è la deliberazione del Consiglio dei Ministri che dice lì è avvenuta un'emergenza, quindi è un luogo definito, quindi per comune. I satelliti poi nei comuni certificano anche il dato catastale, perché ormai è tutto sotto controllo nella politica agraria comunitaria, è il satellite che ti dice se hai fatto quella cultura o ne hai fatta un'altra. Ormai l'invenzione furbastra dell'imbrogno non c'è più spazio in questi casi di terremoti o di alluvioni. Ebbene, noi abbiamo altro protocollo e parte in automatico per i terremoti e per le alluvioni, per eventi di questo livello di catastrofe. E che cosa dice? Dice che quando il governo ha deciso parte con la protezione civile e l'ABI manda immediatamente una circolare che io rendo pubblica in immediato anche con comunicato stampa, in modo che sappiano tutti qual è la situazione, se poi la gente non legge giornali non è alchevibile alle banche, per intenderci. E c'è la sospensione delle ate di mutuo, ovviamente perché le chiede, perché chi non le vuole non è che gli si impone la sospensione delle ateo, ci sono quelli che vanno bene, vogliono togliersi il debito e di conseguenza se ne tolgono. Quindi questo è un meccanismo in automatico, fra l'altro con mesi di documenti, di risoluzioni, di inviti e via di questo genere non l'avevamo già fatta. Quindi questo è un dato che c'è sui mutui. Poi faccio un plauso alle Camere di Commercio, non perché sia qua, ma perché per esempio le mie della Romagna hanno fatto e stanno facendo molto, stanno erogando contributi delle risorse che avevano messo da parte con parametri di oggettività che attualmente sono abbastanza semplici. Devo dire che anche gli aiuti degli enti locali si muovono ognuno per il suo binario in maniera facile. A mio avviso la prima cosa che deve fare lo Stato, più che le elargizioni dei quattrini, è alle imprese la riduzione degli imposti. Questa mi sembrerebbe, ed è una roba facile, non c'è il rischio che uno ne approfitti con la riduzione degli imposti, perché con l'elargizioni dei quattrini, le domande e via di questo genere è meno automatico, è meno certo il diritto. Una riduzione delle imposte, avere solo il rinvio di qualche mese e pagare tutto avendo avuto i danni, poi c'è l'attesa dell'Europa. L'attesa dei fondi europei è un'attesa realistica di cui mi dicono per la Romagna, che è prima alluvionata a maggio, e lì, eppure si muove, i fondi europei sono molto collaudati, quando si è allagata la Germania sono stati attivi e mi risulta che le fotografie da satellite con il combinato disposto dei comuni che sono stati dichiarati alluvionati da parte dello Stato, stia producendo una preparazione di contributi. Per cui se arrivano alla Romagna è solo questione di qualche mese arrivano. Quindi non si parte da zero. A mio avviso, a quel protocollo con la protezione civile, ABI protezione civile, andrebbe connesso un provvedimento, ovvero sia quando lo Stato, il governo decide che c'è stato un terremoto o un alluvione, non è che gli sospende solo e gli deve fare una scontistica, almeno una scontistica delle imposte patrimoniali, perché di imposte patrimoniali noi a qualsiasi genere, se uno ha un'industria, è pieno di patrimoniali per tutti i capannoni, se ha degli uffici, attività di servizi, negozi, a Imo fin sopra le orecchie e quant'altro. Sembra che un inizio di modello ce l'abbiamo, ci si può lavorare. Sì, bene, sono contento. Chiederò dopo se il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti dopo ci dice se lo conosce, se sa come distribuirlo, perché alcune imprese sono qua, che sono alla ricerca delle risorse. Bisogna capire se abbiamo fatto tutto quello che è nostra possibilità a fare, perché siamo arrivati fino alle imprese. Questo è importante. Se mi consentite, prima di chiudere io faccio un'ultima domanda telegrafica al Presidente, ma questa è una mia curiosità, anche se so che lei non commenta casi di singole banche, però siamo partiti dal debito pubblico e li finisco. Una soluzione, e questo governo appare voglia farlo, sono le privatizzazioni. Prima operazione, Monte dei Paschi, hanno venduto con un blitz sui mercati, una quota, forse andrà avanti il processo perché sappiamo che lo Stato dovrà uscire. Come ha visto quest'operazione? Molto efficiente dal punto di vista della sua decisione e la realizzazione di mercato sotto questo aspetto. Sulle privatizzazioni io però ho un chiodo nella testa, nel senso che noi abbiamo alle spalle un decennio, un quindicennio di non privatizzazioni, ma abbiamo alle spalle prima un alto quindicennio di grandi privatizzazioni. Allora la questione, dobbiamo ben capirci, se le privatizzazioni devono servire in conto economico e in conto capitale. Questa è la vicenda, perché se noi andiamo un'altra volta a fare privatizzazioni per far fronte alla spesa pubblica, l'Italia si mangia il capitale. Noi dobbiamo andare a privatizzazioni per ridurre il debito pubblico e se l'Italia dà un segnale di questo genere che fa privatizzazioni e riduce il debito pubblico, si innesta un circuito virtuoso, quel costo del debito pubblico incomincia a calare, la fiducia verso l'Italia cresce, il negoziato in Europa si mette in moto con meno sfiducia verso l'Italia e i paesi mediterranei e i spreconi. Questa è la questione, bisogna bloccare con un tetto la crescita del debito pubblico e utilizzare le privatizzazioni per ridurlo, perché altrimenti è come uno che ha del debito e ha la casa ipotecata, vende la casa non per ridurre il debito ma per continuare a spendere e si trova senza casa ma con più debiti. Bene, grazie Presidente Patuelli, grazie Presidente Basilichi, direi che siamo alla fine di questa tavola rotonda, grazie a voi per averci seguito. Grazie, 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 grazie a Laura, grazie infinite. Non è finita, no, aspettate, ci sono gli ultimi due interventi, io ringrazio il Presidente Patuelli anche per la sua bravura e chiarezza espositiva, mi piace ricordare che lei è anche un giornalista, giusto? Qui a Firenze, esatto, e si vede la sua capacità espositiva, grazie. Adesso chiamo Danilo Maiocchi che è il Direttore Generale di Innexta, la società consortile delle Camere di Commercio per i temi della finanza e del credito che ci parlerà esattamente di questo, prego. Grazie, grazie dell'invito e grazie anche di aver potuto assistere a questo interessantissimo confronto che conservo anche come utilità per la nostra attività. Vi prenderò pochi minuti con l'occasione di darvi un quadro di un servizio che viene adottato, viene adesso proprio implementato anche dalla Camera di Commercio di Firenze, sulla logica che il Presidente Basilichi diceva, cioè avvicinare l'impresa e la banca. Dopo questo confronto che sottende anche, mi sembra che sia stato, come dire, nella qualità è evidente, una distanza da accorciare. Innexta, adesso in una parola vi dirò che cosa facciamo, innexta vi presenta un servizio. Adesso cerco di capire come si girano le slide. Innexta, partiamo dall'asterisco in basso, è la società, come accennava il Presidente Basilichi, delle Camere di Commercio e di Unione Camere Nazionale al servizio delle Camere di Commercio e per le Camere di Commercio propone e mette a disposizione alcuni servizi e attività, tra i quali un paio che rapidamente vi dirò. La finalità, lo scopo che è stato assegnato alla mia società è quella di entrare a facilitare l'utilizzo delle risorse finanziarie, sia di credito ordinario, sia di finanza alternativa, chiamiamola, alle imprese, verso le imprese, principalmente verso le piccole e medie imprese. È evidente, ma non mi dilungo su questo, che la distanza, come dicevamo, tra l'istituto di credito che vige l'articolo quinto di un famoso Presidente di Mediobanca, chi ha i soldi e chi li deve prendere, più si riesce ad avvicinarsi a convercere, evidentemente meglio è per entrambe. Quindi noi abbiamo elaborato un sistema che è questo, l'abbiamo chiamato senza molta fantasia sui finanziaria, che facilita e aiuta, utilizzando le stesse metodologie del sistema bancario, facilita e aiuta l'accesso nel rapporto con gli istituti di credito. Come diceva il Presidente Patuelli, le banche sono tutte diverse, è vero, è vero anche che ci sono delle regole generali e anche regole di valutazione che se l'imprenditore, anche piccolo, anche piccolissimo, la suite è fruibile anche dalla ditta individuale, se le stesse metodologie vengono utilizzate e conosciute prima dall'impresa, e questo lo facciamo attraverso e con la collaborazione, la Camera di Commercio lo fa tipicamente con la collaborazione, ma come diceva il Presidente Basilichi, dei commercialisti e delle associazioni, se l'impresa, anche la ditta individuale conosce, ha anche a sua disposizione le metodologie che l'altra parte del tavolo utilizza, questo facilita sicuramente il dialogo e il confronto. La suite finanziaria è questo, adesso rapidamente diciamo un paio di minuti, poi penso che vi saranno messe a disposizione le slide e ve la presento. Abbiamo avviato anche quest'altro strumento che si chiama ISG Pass perché progressivamente gli istituti di credito saranno anche forzati da BCE e dalla normativa europea ad utilizzare anche criteri di valutazione di sostenibilità, di impatto verso il climate change, di cui si è fatto cenno purtroppo nelle ultime domande del confronto precedente. Ecco, ci sarà questa integrazione e anche noi lo andiamo, è già l'ultimo ma non è ancora operativo e così come dire ne faccio cenno anche al Presidente Basilichi, stiamo valutando la realizzazione di un marketplace, cioè di un punto dove un accesso sempre digitale, dove come si diceva le banche sono tutte diverse, noi ne mettiamo in fila una decina, con anche una decina diciamo tra le banche digitali, non faccio nomi ma penso che le conoscete queste nuove banche che sono nate e anche chi fa fintech, cioè chi fa lending, cioè chi fa prestiti online che adesso sono alle imprese, che adesso vengono vigilati anche da Banca d'Italia e da Consovo, quindi un punto unico dove ci sarà, ma questo è nel corso del 24, questi sono già esistenti, l'altro no, dove ci sarà la possibilità per le singole imprese di fare la suite, cioè di valutare che scorre gli hanno e poi anche le proposte, diciamo così, di confronto con le banche, ovvio poi c'è il percorso di confronto concreto. Allora, la suite velocemente mette insieme queste cose, vediamo, ecco, vi faccio solo questa, con un singolo accesso e una abilitazione, cioè uno mette la sua partita IVA, flagga la privacy, abilita se vuole l'accesso per scaricare la centrale rischi, perché la centrale rischi è un punto fondamentale di valutazione con la banca, diciamo in 5 minuti, se è lento, ecco, può avere l'accesso a alcuni ritorni informativi sostanzialmente automatici, cioè uno score, il nostro è un integratore, cioè noi non abbiamo elaborato noi degli algoritmi, sono quelli che realmente utilizzano anche, cioè alcuni nostri fornitori sono i fornitori degli istituti di credito, poi l'istituto di credito rielabora, vede, rianalizza, fa quello che vuole, ma i fornitori, ad esempio dello score dell'analisi microsettoriale, è un fornitore diciamo di molti istituti di credito italiani, il rating del fondo di garanzia è il fondo di garanzia, medio credito centrale, quindi è un risultato automatico che uno ottiene sulla base dei propri bilanci, la centrale rischi è la centrale rischi, quindi uno la ottiene, noi la rielaboriamo e gliela presentiamo leggibile perché se uno solo la scarica, ammesso che sappia come scaricarla, noi glielo facciamo vedere come fare, è di difficile lettura, e poi diciamo ultimo ma non ultimo la valutazione degli adeguati assetti, commercialisti, i dottori commercialisti sanno benissimo cos'è, le imprese ancora non tanto, ma la riforma del diritto fallimentare, diciamo che adesso si chiama il codice della crisi d'impresa, mette obbligatori per le imprese queste valutazioni e noi abbiamo messo a disposizione un software dentro, incastrato, embedded in questa suite che già dà dei parametri chiaramente governati tipicamente dai propri commercialisti, ma è tutto automatizzato e in più altro che però non voglio DSCR sono le previsioni, diciamo il forecast, l'ultima parte ci vuole un data entry, bisogna mettere dei dati di previsione perché ovviamente un sistema automatico non può prevedere quello che ha in testa l'imprenditore o che ha il proprio cash flow rispetto al futuro. Questo è l'estetica, diciamo così potete come dire anche averne un'idea molto sommaria, è una fotografia, ecco, è uno screenshot di come ottieni un risultato compattato, una dashboard si dice con tutte le varie valutazioni, la prima in alto è lo score, lo score è come dicevo può essere pienamente automatico anche per chi non deposita i bilanci, meglio però se è la ditta individuale, se attacca il modello unico perché altrimenti va statistico sul settore. Sto sempre andando molto veloce, mi scuso, la suite è già in fase di implementazione come il Presidente ha detto il 12 dicembre perché ha dato la data, quindi diciamo sia noi che Camera Firenze, Promo Firenze abbiamo questo impegno, pena soprattutto per Mario o anche per me, ecco, il fatto che quindi il 12 sarà pienamente operativa, ma se andate già sulla questo indirizzo della Camera di Commercio hanno già provveduto a, diciamo, incominciare ad avviare la presentazione che tra una settimana sarà pienamente operativa per la Camera di Firenze. Noi, come dicevo, noi siamo, diciamo, sostanzialmente un fornitore un po' come un private label, ecco, cioè noi lavoriamo per le Camere di Commercio, quindi qui la stiamo customizzando, la stiamo facendo come la vuole Camera di Firenze e Promo Firenze come soggetto esecutivo. Sempre velocemente vi ho fatto cenno che ci sarà, l'incastro, diciamo, verrà messo dentro anche l'ISG Pass. Cos'è l'ISG Pass? Questo vedete il disegno unico, no? Perché la valutazione, leggevo anche oggi su Milano Finanza, si incomincia a fare delle indagini statistiche su quanto costano, ad esempio, i mutui per chi ha delle qualifiche ambientali e c'è una progressiva diminuzione, no? Diciamo, per ora sono, diciamo, pochi decimi di punti base, 0,25 e 0,30, ma soprattutto ci saranno valutazioni di altro tipo. Finisco, finisco dicendo che questo, l'ISG Pass è stato elaborato insieme, diciamo, proprio con un protocollo d'intesa col sistema che utilizza Eni e che con Eni c'è anche, diciamo, alcuni istituti di credito importanti, quindi è totalmente di qualità garantita, di alto livello e con un output anche che va, come dicevo, verso l'area finanza. Qui era solo un esempio, ma ripeto, vi saranno messe, penso, a disposizione le slide di un istituto di credito, noi stiamo collaborando con alcuni, di questionari che anche stiamo mettendo a bordo, utilizziamo anche noi, stiamo condividendo con loro. Grazie, grazie, no, no, perfetto, grazie Maiocchi, molto gentile, molto chiaro. Adesso chiamo sul palco il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, Enrico Terzani, che chiude la nostra mattinata. Prego, dottore. Sì, grazie alla Camera di Commercio per l'invito e naturalmente grazie anche al Dottor Patuelli, anche se è andato via, per la sua chiarissima esposizione macroeconomica, perché veramente una chiarezza così non la sentiamo neanche nelle università, nelle lezioni di macroeconomia. Due considerazioni, il Presidente ha detto che le privatizzazioni possono essere una strada. Io da commercialista, insomma, lavorando un po' anche con i numeri anche dello Stato, è vero che abbiamo un debito pubblico che è 2.800 miliardi, 2.700 miliardi, ma vi ricordo anche che Equitalia ha crediti erariali per 1.100 miliardi, quindi praticamente metà del debito pubblico, se Equitalia facesse, voglio dire, tempestivamente la riscossione dei propri crediti, forse quel debito pubblico in qualche modo si potrebbe abbattere. Questo è un segnale che voglio lanciare, perché molte volte parliamo del debito pubblico, ma non parliamo neanche però dei crediti che lo Stato deve esigere, deve incassare. Beh, venendo all'argomento di oggi, il mio intervento, scusatemi se non sono pronto con delle slide, quindi sarò meno incisivo e forse vi sfuggirà l'attenzione, anche perché insomma l'ora è tarda e quindi cercherò veramente di correre veloce per arrivare appunto puntuale al break. Allora, commercialisti, imprese e banche. Allora, io quando parlo di banche, come abbiamo fatto l'altra settimana presso la Banca d'Italia, inizio sempre da un articolo della Costituzione, perché naturalmente quando ero ragazzo ero assistente di diritto pubblico e quindi studiavo questi argomenti guardando sempre con occhio alla nostra Costituzione. L'articolo 47 definisce la Repubblica come quel soggetto che deve coordinare, controllare e incoraggiare il risparmio. Quindi la gestione del risparmio è una funzione costituzionalmente riconosciuta. È scritto nell'articolo 47 della nostra Costituzione, quindi non è un'attività economica qualsiasi, ma è un'attività che ha una delicatezza fondamentale, perché altrimenti il nostro legislatore non l'avrebbe citata in questo modo all'interno della Carta Costituzionale. I commercialisti in tutto questo. I commercialisti sono conosciuti per essere quelli che fanno pagare le tasse, fanno i bilanci, punto. Ecco, diciamo che per l'80% è vero. I nostri colleghi, da degli studi fatti dal nostro Consiglio nazionale, per l'80% sono eccessivamente forse impiegati dello Stato, soggetti che adempiano a pagamenti delle imposte, bilanci, dichiarazioni, F24, eccetera, eccetera. Il commercialista però deve diventare, a parer mio anche, e quel 20% lo è già, un player a 360 gradi del rapporto impresa-banche, impresa-pubblica amministrazione, impresa-tribunali. Non ci possiamo limitare come categoria ad essere considerati sempre come quelli che fanno pagare le tasse, punto e basta. Quindi ecco che il ruolo del commercialista, specialmente nell'argomento che abbiamo trattato oggi, rapporto banca-impresa, e direi banca-commercialista-impresa, perché il commercialista è sostanzialmente l'intermediario, cioè colui che sta nel mezzo fra la banca e l'impresa, perché è il commercialista che l'accompagna in banca, sia per un fido, sia per un piano di ristrutturazione, sia per un mutuo o qualsiasi operazione bancaria. Il mondo però sta cambiando, sta cambiando anche troppo velocemente forse, e quindi appunto la mia relazione, che cercherò veramente di sintetizzare, vista l'ora tarda, l'avevo divisa in tre parti, ieri, oggi, domani. Cos'era il rapporto commercialista-banca-impresa ieri, cosa è oggi e cosa sarà domani? Ieri era molto semplice e molto banale, cioè a noi commercialisti veniva chiesto il bilancio, l'azienda lo produceva con i soliti tempi, magari anche un po' in ritardo, tre, quattro, sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, e sulla base di quel documento la banca, guardando quei soliti parametri, patrimonio netto, utile d'esercizio, finanziava o non finanziava quell'impresa. Questa, naturalmente, questa visione era una visione, come si dice, backward looking, cioè si guardava più al passato, a un documento ormai, come dire, consuntivato, a un documento che apparteneva alla storia. Il bilancio magari arrivava sul direttore, sulla scrivania del direttore della filiale, con sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, quindi già dati che erano sostanzialmente superati. Il commercialista magari lo poteva elaborare, quel bilancio, con degli indici, con degli indici di liquidità, indici di EBIT, eccetera, eccetera, però erano sempre dati che guardavano al passato, ad un bilancio già chiuso. Oggi non è più così. Abbiamo visto, mi ha anticipato chi mi ha preceduto, parlando già del codice della crisi, si vede, ci siamo letti nel pensiero, perché il codice della crisi non è soltanto la nuova legge fallimentare, ma ci sono dei concetti lì dentro che toccano il codice civile e toccano il concetto di continuità aziendale. Ho visto l'ha toccati bene il relatore che mi ha preceduto. Il primo aspetto è quello della visione forward looking, cioè l'impresa deve redigere un budget a 6-12 mesi per dimostrare la propria continuità aziendale, perché è quello che è fondamentale sia per la redazione dei bilanci con criteri di continuità, ma anche per il mondo bancario, poi per sostanzialmente finanziare e naturalmente sostenere le imprese che hanno una visione a questi 6-12 mesi. L'altro aspetto, e anche qui mi ha anticipato, è gli adeguati assetto organizzativi. Oggi il legislatore impone all'imprenditore di dotarsi di adeguati assetto organizzativi, in particolar modo per prevenire la crisi aziendale, in modo che l'imprenditore si organizzi, organizzi la sua azienda con sistemi di controllo, figure apicali che siano in grado di gestire i flussi di cassa, crea appunto questo modello organizzativo, che rimane ancora un po' troppo teorico secondo me che sia in grado comunque di prevenire la crisi. Guardate, non a caso i collegi sindacali sono diventati obbligatori per le imprese che fatturano più di 4 milioni di euro, più di 4 milioni di attivo e più di, mi sembra, 10 dipendenti. Quindi le soglie sono state anche abbassate per naturalmente introdurre maggiori controlli prima del sistema bancario sulle imprese che devono comunque essere finanziate. Quindi anche non soltanto adeguati assetto organizzativi ma maggiori controlli da parte del revisore e del collegio sindacale. C'è una amplissima categoria di imprese che hanno nominato e stanno nominando i revisori proprio perché naturalmente l'Europa ci chiede, e torno a chiudere, che naturalmente l'impresa sia in equilibrio e quindi non può lo Stato maturare 1.100 miliardi di crediti verso le imprese e le imprese non le pagano queste imposte. È evidente che il revisore deve avere una funzione proattiva in questo senso ed evitare appunto il sorgere di debiti di imposta molte volte ingiustificati. Mi ci trovo praticamente tutti i giorni dove nelle più grandi crisi aziendali purtroppo il creditore numero uno è sempre lo Stato e l'erario. Quindi questo non si racconta niente di nuovo. Cosa ci aspetta? Il futuro e qui appunto chiudo la mia relazione. Naturalmente anche qui chi mi ha preceduto ha già toccato i due temi fondamentali. Il primo gli ESG, cioè avremo un futuro dove i bilanci secondo una direttiva CEA di novembre del 2022 ma secondo anche altre indicazioni dovranno tener conto dell'ASG, Environment, Social e Governance, cioè l'ambiente, il sociale e la governance dell'impresa. Saranno bilanci che probabilmente devono lasciare da parte i tradizionali canoni attivo-passivo costi-ricavi? Sicuramente sì. Saranno bilanci che devono contenere delle informazioni non quantitative ma probabilmente qualitative. Quindi è evidente che la sfida è già sul tavolo per noi commercialisti per redigere questi bilanci in forma ESG ma anche per le banche un domani per finanziare questo tipo di aziende che magari possano avere dei rating numerici ottimi però da un punto di vista di ambiente magari non sono assolutamente in regola con dei rischi enormi. Mi viene in mente appunto l'Ilva di Taranto dove naturalmente la Procura di Milano contestò il mancato accantonamento nei bilanci delle spese per il ripristino ambientale. Quindi in sostanza anche le spese per il ripristino ambientale sono diciamo delle voci di costo molto importanti per le aziende per evitare probabilmente quello che è successo a Campi Bisenzi. L'ultimo tema è il web e qui naturalmente mi richiamo ad un articolo di un professore fra l'altro mio amico che insegna qui a Firenze più vicino ai clienti per battere i big del web. Cioè il sistema bancario deve far conto e lo sta già facendo sicuramente che i grandi big del web Amazon, Google, Alibaba hanno dei dati, delle informazioni superiori rispetto alla media. Alcuni di questi big del web hanno già costituito delle banche, l'esempio trovato nel 2019, Alibaba ha costituito la sua banca con delle capacità e delle velocità impressionanti. Sono in grado di affidare con tempi veramente stretti e con un NPL molto basso. Quindi significa questo che i giganti del web un domani saranno i veri concorrenti probabilmente del sistema bancario. Però appunto quello che dice in questo articolo il professore è che comunque, e l'ho sentito dire anche prima parlando di credito cooperativo, l'avvicinanza del direttore di filiale al cliente, all'impresa, può fare comunque la differenza. Quindi quello che dobbiamo, dovete come istituti di credito ma anche noi come professionisti, ricreare veramente quel rapporto umano che col web sparisce. Perché è evidente che molte volte affidare una persona si fa prima guardarla in faccia che non ad affidarsi ad un database sul web. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie Presidente Terzani. La mattinata è finita, c'è un buffet all'ultimo piano, al quale ovviamente siete tutti invitati. Ci vediamo per uno dei prossimi incontri dell'economia, colloqui dell'economia, tra qualche mese. Grazie e arrivederci. Ciao, 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 ciao.